ma per a tutti ragazzi eccoci trovati in un nuovo video questo video diciamo che è un po' un video triste un video triste perché comunque ovviamente noi stavamo registrando stavamo per registrare il film quando il quarto episodio giustamente perché quando noi stavamo cercando qualche maniera per rendere qualcosa un po' più bellino fin quando io ho fatto una cosa che adesso non vi sto a dire ma semplicemente io volevo rendere un po' più bellino un po' più bello lo stage dove dovevamo registrare il quinto episodio rexon si è arrabbiato e quindi ha deciso di mollare tutto ovviamente per me e michele per gli altri lui pensa che per noi sia una grande perdita però si è una perdita però non possiamo costringere persone a fare una cosa che non vogliono quindi ecco quindi adesso chiediamo a voi iscritti cerchiamo un nuovo antagonista ecco cerchiamo un nuovo antagonista come ha detto appunto maulo adesso aspetta aspetta ora dico io cosa serve allora uno che va di minecraft abbastanza bene che sappia usare bene i comandi si comandi ovviamente una persona che abbia la voce da ragazzo non da bambino da ragazzo e abbia almeno un canale di tube con almeno facciamo 100 iscritti si no sono caduto nell'unico buco che c'era io sono già per la seconda volta arrivato a urano quindi ragazzi gg a me comunque purtroppo è una grave perdita perché lo è però adesso ditemi voi per un insulto insulto per un bimbo minchia lui se l'è presa io ovviamente ho cercato di convincerlo tornare abbiamo cercato perché tutti quanti abbiamo cercato ma lui ha iniziato a insultare sia me no mi ha insultato solo a me però sinceramente ci sono rimasto un po' male perché comunque era un ragazzo ragazzi ragazzi posso dire una cosa scusa se ti interrompo allora il terzo episodio lo dovremmo ricaricare sì appunto perché vabbè già era stato senza offesa era stato registrato di merda però almeno è un buon motivo per registrarlo meglio rifarlo tutto ecco perché il nome non sarà più Rexon sarà pepino sarà di quello di colui che appunto prenderemo che prenderemo con questo provino qua quindi quindi ragazzi aspettate mettete mi piace commentate col vostro nome di minecraft è il vostro id di skype così noi vi contatteremo subito già c'era homeschool o geyser che homeschool l'avevo anche aggiunto però quando l'avrò quando l'avrò cercato per chiamarlo forse non c'era in quel momento quindi adesso proveremo anche richiamarlo quindi poi ragazzi come ho detto nel primo episodio nella prima cosa dei provini se non vi scegliamo non vi preoccupate ci saranno posti ci saranno tanti posti io sto inventando guardate ragazzi ho già in mente la seconda stagione non vi preoccupate quindi da malo 98 il grande sean il coglione è tutto bella grazie a tutti